Ciao, vediamo insieme questa formatura di questo filone. Questo è l'impasto per il pane tipo caffone, un pane chiamato così, vedete ha fatto un impasto fatto a mano, è stato in lievitazione 12 ore in frigo, poi l'ho tirato fuori, fatto un giro di pieghe, rimesso in ciotola e lasciato ancora a lievitare. Poi in seguito magari vedo di fare il video intero di questo pane, intanto vediamo come viene, vediamo intanto come formarlo, vedete è un impasto molto idratato, molto morbido, morbidissimo, quindi lo piego così, piego i lembi, cerco di attaccarli bene e poi arrotolo, finisco arrotolando in questo modo, ok eccolo qua, è ancora un po' appiccicoso, però va bene così, ora lo metterò in un cessino dove lo lascerò lievitare ancora, ok. Grazie a tutti! Grazie a tutti!